Numero 5. Il ciuccio MAM Perfect Start è il prodotto ideale per le prime settimane di vita del tuo bambino, sia per i neonati a termine che per quelli prematuri. Grazie alla tettarella anatomica ultra sottile in silicone, aiuta a prevenire il rischio di malocclusioni dentali e garantisce una suzione naturale e confortevole. La morbida texture soft skin permette al bambino di rilassarsi e di sentirsi al sicuro. La mascherina con fori grandi è delicata sulla pelle e la sua forma farfalla la rende adatta alle labbra del neonato. Inoltre, è dotato di una pratica scatolina protettiva e per la sterilizzazione. Se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo, clicca il link in descrizione. Numero 4. La nuova ciuccio MAM Air Night è sicuramente una scelta ideale per i bambini dai 16 mesi in su. Grazie alla sua mascherina traspirante, si evita il rischio di irritazioni o arrossamenti sulla pelle del bebè. Ma non è tutto, questa produzione offre un tocco di originalità con la sua capacità di illuminarsi al buio, perfetta per la notte. Inoltre, la tettarella ortodontica in silicone garantisce una corretta posizione dei denti e della mandibola. La scheda tecnica è bella completa, con materiali di qualità come la plastica e il silicone, e accessori utili come la scatolina protettiva e per la sterilizzazione. Se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto, clicca il link in descrizione. Numero 3. MAM Original Night è la soluzione ideale per i genitori sempre alla ricerca del ciuccio giusto per il loro bambino. Con due pezzi inclusi nella confezione, questo ciuccio con materiale in silicone è adatto per bambini di età superiore ai 16 mesi. La sua particolarità è la funzione di illuminarsi al buio, rendendolo facile da trovare anche nelle ore notturne. Inoltre, il ciuccio è accompagnato da una comoda scatolina per la sterilizzazione e una mascherina delicata sulla pelle. La variante a forma di cuore rende il ciuccio ancora più attraente per i piccoli. Acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione. Numero 2. Il ciuccio MAM Original è diventato il migliore amico dei genitori grazie alla sua tettarella in lattice naturale resistente e sicura per il bambino. La mascherina traforata riduce il rischio di irritazioni sulla pelle delicata del bambino, mentre la forma simmetrica e anatomica aiuta a mantenere la bocca ben posizionata. Ideale per bambini dai 16 mesi in su, è dotato di una pratica scatolina per la sterilizzazione e protezione. Disponibile in colori assortiti, il ciuccio MAM Original è una scelta sicura e affidabile per il tuo piccolo. Il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione. Numero 1. Il ciuccio MAM Comfort è un prodotto innovativo e funzionale, perfetto per i più piccoli. Realizzato al 100% in silicone morbido, è indicato per bambini prematuri e neonati che necessitano di maggiore delicatezza. Il design monopezzo in silicone rende il ciuccio leggero e confortevole durante la nanna, mentre la sua forma anatomica è ideale per adattarsi alla bocca del bambino. Inoltre, la mascherina a farfalla garantisce un comfort ottimale anche durante il sonno. Il ciuccio è dotato di una comoda scatolina protettiva e per la sterilizzazione, per garantire massima igiene e praticità. Trovi il link di questo articolo in descrizione. Grazie a tutti.